Buona giornata, ben ritrovati a un aggiornamento con le previsioni tra vi meteo. Mercoledì un minimo di bassa pressione abbraccerà l'Europa centro e meridionale, anche l'Italia, con dei temporali anticiclone, di fatti che rimarrà defilato più ad ovest tra isole britanniche e penisola iberica. Andiamo a vedere gli sviluppi sull'Italia perché sarà una giornata ancora movimentata al centro nord per questo minimo depressionario in quota, con l'attivazione entro pomeriggio di temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, Nordeste, regioni centrali e in particolar modo lungo l'Appennino centro-settentrionale. Giornata abbastanza bella al sud, qui segnaliamo però l'ingresso del maestrale che renderà almeno sulla parte tirrenica il caldo decisamente più sopportabile e moderato. Tutti i dettagli precisi li trovate sull'app di Trabi Meteo.